In collaborazione con Will, CGL, CNA, ACLI. Border, storie di confine. Bentornati a una nuova puntata della nostra trasmissione che spazia sul tema dei frontalieri. Tanti anche questa sera gli argomenti da trattare. Intanto subito una notizia perché ne abbiamo parlato per settimane e sono state tantissime anche le vostre richieste. È caduto anche l'ultimo balzello, l'ultimo ostacolo burocratico che impediva il passaggio tra Italia e Svizzera. Non è più obbligatorio compilare il Passenger Locator Form, quindi quel modulo online che era richiesto a tutte le persone che entravano con qualsiasi mezzo in Italia, nella fascia di confine non è più necessario. Quindi un'ulteriore buona notizia sul fronte del commercio, soprattutto dei passaggi veloci, perché si parla dell'abolizione per chi rimane in Italia un massimo di 48 ore. Quindi intanto una notizia, un po' di servizio, ma anche utile perché davvero sempre sono state tantissime le richieste su questo punto. Tanti temi, lo abbiamo detto. Do subito il benvenuto a uno dei nostri ospiti, perché il bello della diretta questa sera per un incidente che fortunatamente avete sentito nel telegiornale non ha causato feriti gravi, ma di fatto sta creando grosse difficoltà a livello di traffico a Como. Abbiamo al momento solo un ospite che è riuscito a raggiungerci, quindi do subito il benvenuto a Giuseppe Ugurusa, responsabile nazionale della CGL Frontalieri. Buonasera. Buonasera. Siamo bloccati con gli ospiti qui, ma invece siamo pronti, grazie alla tecnologia e ai collegamenti Skype, ad andare ad Aosta. Quindi tra pochissimi istanti ci collegheremo anche proprio appunto con Aosta. Subito volevo chiedere a Giuseppe Ugurusa. È caduto anche quest'ultimo balzello, lo abbiamo detto. Era una notizia attesa. Questi intoppi burocratici hanno creato problemi per settimane. Era una notizia attesa. Sì, era sicuramente una notizia attesa. Dopodiché credo che non solo le pressioni, ma anche un ragionamento che ha guardato all'andamento degli indici di contagio, ha fatto sì che a questo punto evidentemente si potesse rendere più fluido il passaggio. Credo che da questa vicenda, non solo quella del balzello evidentemente, ma da tutta la gestione di quest'anno e mezzo, si debba trarre un insegnamento. O le cose si fanno in termini coordinati, oppure se ognuno va per sé, i risultati sono quelli che abbiamo visto quest'anno, e cioè di grande difficoltà di gestione e di iniziative amministrative non sempre coordinate. Questo ha creato grandi malintesi. Credo che oggi possiamo dire, almeno da questo punto di vista, di esserne quasi fuori. E allora di questo parleremo poi naturalmente anche con gli altri ospiti. Intanto vi ricordo che è sempre possibile intervenire. 031-3300-655 per le telefonate, 335-7084-396 per i messaggi Whatsapp. E allora, lo abbiamo detto, siamo bloccati con le strade qui intorno, ma siamo pronti ad andare ad Aosta. Allora, do subito il benvenuto a Vilma Gaillard, che è il segretario generale della CGL di Aosta. Buonasera, grazie per essere con noi. Salve e buonasera. Ecco, lo abbiamo detto anche la scorsa settimana. Si pensa ai frontalieri, si pensa sempre alla zona di Como, al confine con la Svizzera, alla zona di Varese. Difficilmente immaginiamo che invece ci sono molte altre realtà toccate dal fenomeno del frontalierato. Abbiamo visto Bolzano, oggi incontriamo la realtà di Aosta. Quindi lascio subito a lei la parola per inquadrarci un po' la vostra situazione, per capire qual è la vostra realtà legata al frontalierato. Grazie innanzitutto. Assolutamente sì, anche la Valle d'Aosta ovviamente confina da un lato con la Francia e dall'altro con la Svizzera. E quindi i rapporti con queste due nazioni sono sempre presenti ormai da secoli. È ovvio che il frontalierato, così come si conosce sia su Como, su Varese e nella zona dell'Ecco e Verbano Cusio-Ossola, non è il tipo di frontalierato che abbiamo noi. La Valle d'Aosta da sempre si caratterizza per avere dei rapporti con la Svizzera di continuo, sia anche nei secoli passati, ma è sempre stata caratterizzata da una forma di emigrazione più di carattere stagionale oppure settimanale. Ecco, noi non abbiamo un frontaliere, se non per numeri estremamente piccoli, che quotidianamente si reca in Svizzera e rientra in Italia. Normalmente io lo definisco una sorta di frontalierato di breve, medio e lungo termine. insomma, ecco, abbiamo un frontalierato che soprattutto riguarda lavoratori che ovviamente vanno a prestare la propria opera. Di solito si tratta di lavoratori che hanno delle professionalità piuttosto elevate, sia nel campo dell'edilizia, sia nel campo della medicina, sia anche proprio nell'artigianato in genere, così come anche nella coltivazione della vite. Si tratta però di un rapporto che non è di andata e ritorno giornaliera, ma normalmente il lavoratore risiede in Valle d'Aosta, si reca il domenica sera o lunedì e rientra il venerdì in Valle d'Aosta. Oppure è un lavoratore, più una forma di emigrazione un po' particolare, dove il lavoratore risiede magari per alcuni mesi o piuttosto per una stagione, oppure per un tempo determinato, spesso inferiore all'anno, e tende poi a rientrare, o per le ferie, o tende a rientrare quando ha finito il suo periodo di stagionalità. Ecco, ma anche per i vostri frontalieri una delle attrattive principali è quella del salario, oppure parliamo di una situazione diversa anche su questo fronte? Allora, si innestano due fenomeni, due questioni. Da un lato bisogna dire che la Valle d'Aosta è sempre stata terra più di immigrati che di emigrati. Questo fino, insomma, con alterne vicende, nei secoli che adesso non sto a entrare nel merito, però diciamo che con la crisi del 2008, che in Valle d'Aosta si è, come dire, evidenziata appena in maniera un po' più tardiva rispetto al resto del territorio nazionale. Bisogna dire però che questa crisi ha effettivamente creato, soprattutto nel campo dell'edilizia, dove l'edilizia da noi era legata a forti commesse di carattere pubblico, ecco, ha creato, come dire, un vuoto. E quindi, da un lato, la necessità, ovviamente, di cercare un lavoro più stabile, di un lavoro più duraturo, un lavoro che, ormai, purtroppo, in Valle d'Aosta era tendenzialmente precario. E soprattutto, bisogna dire che per molti giovani, come dire, questa precarizzazione iniziale e, ovviamente, anche una questione legata alla remunerazione, ecco, era un po' un primo scalino per cui, in qualche modo, noi abbiamo avuto modo di evidenziare, anche da degli studi che sono stati fatti nel 2018, in particolare, dove proprio ci si è reso conto che c'è stato questo aumento di emigrazione, soprattutto verso i paesi francofoni, in modo particolare verso la Svizzera, anche perché voi sapete che la Valle d'Aosta è bilingue, quindi, per noi, c'è una facilità, proprio anche in termini di lingua, nell'andare a lavorare in Svizzera. Ecco, quindi direi che da un lato elementi legati a una crisi, a una difficoltà di trovare lavoro in Valle d'Aosta che ha fatto sì che molti giovani nostri oggi si spostino di, io adesso sto parlando di Svizzera, ma anche Francia, ma anche altri paesi dell'est in particolare, ma addirittura anche a livello internazionale verso l'Asia e, al contempo, noi abbiamo anche un, siccome la Valle d'Aosta per tanti anni ha avuto un'immigrazione importante che si è anche domiciliata presso la Valle e hanno anche dei permessi di soggiorno illimitato, abbiamo anche questi immigrati nostri che proprio adesso si recano soprattutto in Svizzera verso il confine con la Germania in Francia. Ecco, esiste il fenomeno al contrario? In Valle d'Aosta ci sono lavoratori stranieri che arrivano, lavoratori frontalieri che magari anche nel settore del turismo o in altri ambiti vengono a lavorare in Valle d'Aosta? Allora, no, questo fenomeno non è da noi molto sentito, ci sono, come dire, magari delle situazioni legate magari a degli accordi legati a dei corsi, a delle formazioni, ad esempio per quanto riguarda anche il vitivinicolo che da noi in Valle d'Aosta ha avuto anche una crescita importante, ci sono delle relazioni ma non da determinare come dire la percezione che ci sia una emigrazione da parte della Svizzera o Francia insomma diciamo le frontiere che noi abbiamo verso la Valle d'Aosta e noi abbiamo poi anche registrato un aumento veramente molto forte di persone che si recano all'estero in modo particolare la Svizzera è al primo posto ma la cosa che preoccupa in qualche modo un po' tutta la regione è l'età di questi giovani perché la percentuale più alta dei giovani abbiamo ad esempio su circa 6.195 che sono iscritti all'anagrafe all'Aire lei consideri che quelli che hanno meno di 18 anni sono il 18% poi abbiamo tra i 18 e i 34 anni un 20% e un 22,4% tra i 35 e i 49 anni quindi come dire una popolazione giovane una popolazione che ha anche già una professionalità acquisita che a volte è gente che ha diploma che ha laurea infatti numerosi sono anche nell'ambito sanitario sia del carattere infermieristico e sia anche proprio come medici che cercano un lavoro soprattutto in Svizzera primo perché la Svizzera riconosce maggiore meritocrazia e due ovviamente perché dopo un periodo soprattutto per i livelli diciamo più elevati dopo un periodo di prova di tirocinio vengono comunque remunerati e viene riconosciuto il loro lavoro per cui tendenzialmente tendono poi a stabilizzarsi oppure a rientrare soltanto nei periodi come dire di vacanza o i fine settimana in Valle d'Aosta ecco abbiamo in studio anche Giuseppe Ugurusa e chiedo un po' a entrambi ci sono comunque ci sono delle priorità che legano entrambe le realtà cioè comunque ci sono delle istanze comuni che ha senso portare avanti anche poi quando si parla di Interreg si va a comprendere un po' tutte le zone di confine certo innanzitutto saluto Vilma e prenderei due spunti dalle cose che lei ha detto in modo molto preciso come sempre insomma la prima questione è il bilinguismo ovviamente noi questo problema qui non ce l'abbiamo ma se solo ci spostiamo leggermente andiamo verso Sondrio per esempio lo abbiamo trattato settimana scorsa infatti dicevo il tema della mancanza della conoscenza del tedesco la realtà delle lingue si pone spesso e se si va sul lato opposto quindi da Verbania rispetto al Vallese questo problema della lingua si pone ovviamente in questi casi non c'è un tema di bilinguismo dalle nostre parti a differenza di Aosta e di Bolzano dove il bilinguismo è di fatto e quindi questo è un elemento però di competitività questo è un tema che noi poniamo su tutto il territorio nazionale e cioè poniamo alle regioni il tema della formazione linguistica perché questo diventa un elemento di competitività importante l'abbiamo fatto in Liguria con la regione Liguria dove il confine tra 20.000 il principato è la Francia è un elemento di difficoltà di competizione proprio dei nostri lavoratori in una situazione di depressione perché quella è un'area come dire depressa dal punto di vista occupazionale e come elemento di sbocco ha esattamente la Francia ma deve competere con i lavoratori che vengono da Nizza ovviamente sul piano linguistico non c'è partita l'altra questione che Vilma poneva era la questione della frequenza qui è un tema che come dire non è comune ma ci permette di evidenziare un'altra questione lei parlava prima di una frequenza settimanale noi parliamo di frequenze giornaliere in realtà il regolamento europeo definisce i frontalieri come coloro i quali attraversano i confini settimanalmente o giornalmente questa questione con la Svizzera e col Ticino in particolare non è mai stata chiarita tant'è che nell'accordo fiscale di cui abbiamo trattato qualche tempo fa sottoscritto a dicembre scorso abbiamo proprio provato a introdurre questo meccanismo e il trattato ha definito una sorta di franchigia cioè la Svizzera ancora non riconosce il frontalierato sulla base della normativa europea e cioè quella che dice che è frontaliero anche chi va una volta alla settimana pensate a cosa vorrebbe dire questo nella logica della smart working per esempio ci risolverebbe un sacco di problemi evidentemente allora io devo mandare la pubblicità non so chiedo a Vilma se voleva aggiungere qualcosa se vuole aspettare ancora se vuole rimanere ancora in attesa rimane un attimo con noi e ci salutiamo ci salutiamo subito dopo la pubblicità allora tra poco va bene Bentornati a Border siamo ancora collegati con Aosta allora prima di chiudere stavamo parlando appunto delle problematiche comuni alle diverse zone quindi rigo subito la linea a Vilma Gaillardo proprio appunto per chiedere anche a lei di un messaggio finale su questo tema delle problematiche comuni ma sì mi riallaccio un po' a quello che diceva prima Giuseppo Gurusa sul concetto di frontalierato ecco Cigelle Cirve Willy insomma noi da tanto tempo si chiede proprio questa istituzione di questo statuto insomma dei lavoratori frontalieri dove anche il termine frontalierato si va a dare una nuova definizione in maniera chiara e riconosciuta appunto anche dalla Svizzera sul concetto di frontalierato che tenga conto proprio anche delle diverse situazioni regionali e soprattutto anche delle nuove frontiere del lavoro il lavoro agile lo smart working e proprio su questo noi come organizzazione sindacale come CGL in questo ultimo anno in modo particolare nei nostri istituti di patronato abbiamo avuto parecchie richieste legate proprio allo smart working di lavoratori valdostani ovviamente per ora i numeri sono ancora molto piccoli ma già è un segnale che chiedevano appunto come da un punto di vista da un punto di vista della previdenza da un punto di vista proprio di quello che è l'organizzazione del lavoro di lavoratori valdostani residenti nella nostra regione che comunque lavorano con telelavoro per delle aziende svizzere e dove si recano in aziende svizzere magari una volta alla settimana una volta al mese o per dei briefing o per della formazione è sicuramente io credo questa è una frontiera su cui bisognerà anche noi come organizzazioni sindacali lavorare ancora molto allora io ringrazio davvero Vilma Gaillard per questo spaccato anche sulla Valle d'Aosta grazie per essere stata con noi buon lavoro grazie grazie a voi e un saluto a tutti voi grazie allora in attesa del nostro ospite che sembra stia arrivando tra pochissimo avremo anche invece un altro ospite collegato Skype leggo anche due domande che ci sono arrivate dai telespettatori vorrei sapere se quando a 65 anni tra due anni avrò diritto alla pensione svizzera dovrò fare richiesta o è automatica e sia accreditata direttamente sul conto bancario italiano mi pare che ci siano due problemi qua uno è quello ovviamente di verificare queste domande sempre in diretta sempre l'inghippo di non capire esattamente la condizione effettiva però in linea generale diciamo uno avere requisiti per la pensione italiana determina di fatto la possibilità di fatto di potervi accedere e quindi a quel punto di poter fare richiesta evidentemente di quella svizzera che ricordo è come dire è connessa per accordi per accordi storici diciamo alla possibilità di essere integrata quindi questo lo può fare assolutamente suggerirei sempre in questi casi di fare una verifica col patronato perché in televisione senza conoscere la situazione contributiva effettiva possiamo dare delle risposte gli anni gli anni non sono sufficienti c'è anche l'elemento contributivo che manca in questo se posso aggiungere una cosa a quello che diceva Vilma prima rispetto al tema dello smart working ecco questa questione della pandemia ha aperto tra le altre cose anche questo ha tirato su questo vaso di Pandora su qual è la condizione dei frontalieri c'è un limite che è fissato nel 25% che riguarda le condizioni contributive e fiscali a livello europeo ed è utile ricordare che l'accordo che oggi vige con la Svizzera è un accordo in via transitoria amichevole che rimane tale fino a che c'è la condizione dell'emergenza sanitaria quindi con tutta probabilità sarà prorogato fino al 31-12 ma questa questione a livello europeo a livello dei sindacati europei l'abbiamo riproposta perché va aperta una discussione su come risolvere questa condizione ritorno a dire che se il Ticino affrontasse per esempio il tema della frequenza settimanale che è prevista nell'883 del 2004 cioè nel regolamento europeo questo potrebbe in parte aiutarci a risolvere questo problema un'altra domanda invece chi ha fatto la prima dose del vaccino o il certificato vaccinale da Milano posso entrare in Svizzera e uscire? Allora lo dicevamo in apertura il Green Pass al momento è solo quello italiano il Green Pass il certificato Covid a livello europeo entrerà in vigore probabilmente salvo sorprese dal primo luglio in questo momento però è possibile circolare liberamente tra Italia e Svizzera senza obbligo di tampone e senza obbligo appunto di compilare il modulo online se ci si sposta nel raggio di 60 km dalla propria residenza e per una permanenza massima di 48 ore quindi questo al momento è il regolamento in vigore questo è quello che dobbiamo rispettare c'è l'apertura di fatto per la fascia di confine vedo intanto però collegato il nostro prossimo ospite un volto noto ai nostri telespettatori quindi senza troppe presentazioni do il benvenuto a Dario Campione giornalista che è passato che da Como da poco tempo è passato proprio nei panni del frontaliere al Corriere del Ticino grazie per essere con noi Dario buonasera a tutti buonasera a Uzza e buonasera ai nostri telespettatori allora naturalmente lo dicevamo prima il passaggio da una parte all'altra del confine ti permette in questo momento di avere un po' una visione diversa una prospettiva diversa di avere entrambe le prospettive conoscendo tu benissimo sia quella italiana e ora anche quella svizzera allora stavamo parlando delle tematiche un po' così che in questo momento toccano tutti i frontalieri però non l'abbiamo ancora introdotto questa sera l'abbiamo solo accennato il tema dell'accordo fiscale e proprio da questo volevo partire perché chiedo a entrambi sembra che il tema sia quasi un po' scomparso dai radar dalle priorità della politica lo chiederemo poi anche al nostro ospite ma intanto voglio sentire entrambi parto da te Dario Sì io come Ulusa sa perché ci siamo sentiti ho avuto questa impressione cioè che il Parlamento italiano il governo italiano la politica italiana in questa fase che è un po' di attesa abbia come dire in qualche modo messo nel cassetto l'accordo aspettando tempi migliori ecco la mia impressione è che tutto quel movimento che c'era stato nei mesi scorsi che aveva portato all'accordo alla firma dell'accordo sembrava che anche questo potesse aiutare i rapporti tra la Lombardia e il Ticino tra l'Italia e la Svizzera ecco mi sembra che tutto questo sia si sia un po' rallentato non dalla politica ho avuto riscontri di questo genere cioè chi si occupa chi si è occupato quotidianamente di questi temi adesso sottolinea appunto questa fase di stanca questa fase di attesa sicuramente il testo non è calendarizzato deve passare il testo nella commissione esteri di entrambi i rami del Parlamento poi dovrà ovviamente anche passare nelle commissioni finanze e bilancio perché ci sono anche ovvio elementi di natura fiscale quindi insomma la calendarizzazione è un dato significativo perché è il primo passo vero di questa approvazione al momento non se ne sa più niente e io temo che da parte italiana soprattutto questo accordo si sia in qualche modo voluto bloccare teniamo conto che invece il Parlamento svizzero dovrebbe averlo credo se non ricordo male già in calendario per la sessione di dicembre per il voto definitivo ha la stessa sensazione? beh io devo dire insomma con Dario Campione ne abbiamo parlato a suo tempo si ricorda infatti credo che insomma non è simpatico dire l'avevamo detto non è carino ma insomma è esattamente quello che ci siamo sempre detti e cioè noi abbiamo avuto una sorta di illusione ottica diciamo che era quella evidentemente dell'accelerazione ricorderete insomma che a un certo punto a dicembre improvvisamente fumo convocati con una sorta di accelerazione l'accordo che avviede anche la mia firma è del 23 di dicembre l'accordo di Natale c'era tanta urgenza che si è firmata prima di Natale abbiamo fatto sottoscritto questo accordo ma in quell'accordo da un lato aggiungemo un memorandum d'intesa che chiedeva al governo alcuni impegni che sono Campione l'ha citato prima alcuni impegni di natura fiscale che riguardano non solo le condizioni del trattato ma degli atti integrativi sul trattato stesso e da questo punto di vista aggiungo che al ritardo diciamo evocato da Campione c'è anche un ritardo rispetto alla convocazione delle organizzazioni sindacali in quel memorandum era indicato che entro aprile saremo stati evidentemente convocati per cominciare a fare una discussione sugli aspetti integrativi dell'accordo tra cui per esempio lo statuto dei lavoratori frontalieri ad oggi questa convocazione non c'è non c'è dubbio che questo ritardo è determinato da una serie di cose da un lato vorrei ricordare che abbiamo cambiato un governo nel senso che come dire in Italia è un po' più frequente che in Svizzera fatemelo dire con neofemismo dall'altro non c'è alcun dubbio che siamo in una fase che era del tutto imprevedibile che era quella cioè di un governo di tutti insomma un governo di tutti fortemente focalizzato sul recovery fund e sulla gestione della pandemia e mi verrebbe da dire che dal punto di vista delle priorità questa non rientra tra le priorità dopodiché nonostante questo dico che non sono stupito affatto perché uno degli elementi fondamentali che riguardava esattamente l'accordo fiscale era che la probabilità col sistema bicamerale italiano è che di questa cosa se ne parlasse intorno al 2023 2024 quindi da questo punto di vista le preoccupazioni che in qualche modo ho sentito insomma da esponenti svizzeri in particolare dovrebbero rientrare nell'alveo delle previsioni che erano già queste a maggior ragione per le cose che in qualche modo sono accadute quindi io devo dire che non sono affatto stupito di questo ritardo insomma e nemmeno se chiamarlo ritardo in questo momento lo dico così allora intanto che parliamo di ritardo io do il benvenuto non è per colpa sua che il ritardo è stata una giornata lunga e c'è stato anche il problema del traffico ma do volentieri il benvenuto a Manuele Bertoli presidente del consiglio di stato buonasera e davvero grazie per essere con noi allora la metto la faccio entrare subito nella discussione che stavamo facendo con i nostri ospiti con Ogurusa e con il giornalista Dario Campione che è collegato via Skype si parlava dell'accordo fiscale che sembra un po' scomparso dai radar della politica qual è l'impressione stavamo cercando di capire se davvero si arriverà alla concretizzazione oppure se finirà in qualche modo nel dimenticatoio la sua sensazione qual è spero davvero che non sia finito in un dimenticatoio noi abbiamo delle informazioni secondo cui diciamo il processo parlamentare sia a Roma che a Berna è in corso dopo questo cosa voglio dire esattamente e che tipo di corso farà lo dovremo ancora vedere non abbiamo segnali contrari che ci indicano degli impedimenti o degli intoppi come li avevamo invece prima della ripartenza che c'è stata l'anno scorso e che ha permesso di fare dei passi avanti effettivi la Svizzera sembra avere delle date un po' più precise meno l'Italia avete comunque fiducia che anche in Italia stia andando avanti l'iter? ma io credo che sia un accordo che interessa le due parti che sia nell'interesse di tutti innanzitutto attualizzare tutta questa questa materia che è ferma a un concetto degli anni 70 e a un mondo che non c'è più sostanzialmente che è cambiato radicalmente soprattutto dopo la libera circolazione delle persone e quindi un cambiamento drastico in questa relazione e anche nei numeri poi tra lavoratori frontalieri e lavoratori a cavallo del confine e poi tutta la dimensione anche diciamo così attuativa che davvero necessita di qualcosa di nuovo di un nuovo vestito che è il gran tempo che adesso arrivi allora voglio introdurre anche un altro tema a cui chiedo coinvolgo tutti nella discussione quello della cooperazione internazionale quello dell'interreg noi anche in questi giorni abbiamo letto numeri significativi c'è stata l'ennesima una nuova riunione del consiglio direttivo della region subrica e si è parlato ancora del tema proprio del progetto per i prossimi anni quando si entra poi un po' nel concreto ci sono sempre degli screzzi su quello che davvero poi si andrà a concretizzare su quali sono davvero intanto inizio a chiedervi quali sono davvero le priorità da una parte dall'altra del confine coinvolgendo Agurusa coinvolgendo Bertoli e poi sentendo anche un po' Dario Campione come ago della bilancia quali sono le priorità davvero per l'Italia la riunione a cui faceva riferimento era quella dell'autorità di gestione del 31 maggio ultima dove si sono discusse diciamo le linee guida della nuova programmazione partendo evidentemente da uno studio che l'autorità di gestione ha affidato a una società di Basilea credo uno studio peraltro molto dettagliato e ho potuto in quell'occasione esprimere un'opinione uno studio fatto anche molto bene da questo punto di vista tuttavia come dire le condizioni sono il consuntivo del periodo precedente e come applichiamo questo consuntivo nel periodo successivo più volte mi è capitato di dire anche in questa trasmissione che il periodo precedente ha dato sostanzialmente quest'esito un valore complessivo di 160 milioni circa di cui due terzi messi dall'Unione Europea un terzo messo dalla Confederazione Elvetica di questa mole il 10% il 9,5% è stata investita sulla governance trasfrontaliera cioè sui rapporti diciamo sulle buone prassi mettiamola così tra i due paesi solo il 10% questo è il tema quindi quello a cui abbiamo sempre fatto riferimento da questo lato della frontiera era come può un programma di cooperazione che in larga parte è finanziato dall'Unione Europea ma questo anche in relazione alle dimensioni dei due paesi ovviamente alle dimensioni certamente come può però limitare un finanziamento come dire un investimento di questo tipo su una questione che è fondamentale cioè la mobilità del lavoro da questo punto di vista gli 80.150 frontalieri che vanno dall'Italia alla Svizzera rappresentano inutile che ce lo ripetiamo un valore fondamentale insomma per l'economia stessa a cui potremmo aggiungere residenti e quant'altro il fatto che i progetti Interreg abbiano finanziato in quella condizione quando parlo di governance parlo ovviamente di buone prassi fiaglienti di precorsi di formazione peraltro formazione fatta spesso in Italia che viene scaricata ovviamente nelle competenze nell'impresa svizzera abbia fornito solo quella parte ci pare riduttivo quindi il tema di fondo era quando facciamo la nuova programmazione dobbiamo evidentemente mettere a punto proprio sulla base delle conclusioni di quello stesso studio che diceva sostanzialmente due cose e poi chiudo una appunto che il tema del lavoro della mobilità è un tema centrale evidentemente tra due paesi confinanti e tra un'area geografica e direi un'area economica contigua che come dire che ha vantaggi reciproci da questo punto di vista sia in forza lavoro che in elementi economici e due problema fondamentale che da parte di tutti compreso mi risulta anche da parte dei cantoni c'era la necessità di focalizzare meglio i processi i progetti chiedo scusa rispetto alle nuove politiche regionali cioè se la nuova politica regionale richiesta dalla Confederazione quindi fatta dai cantoni deve essere più focalizzata è chiaro che i progetti in qualche modo devono essere più in linea con quella nuova politica regionale altrimenti il rischio vero è che come dire le esigenze da parte di tutti non vengano in qualche modo portate a termine questo mi sembra che sia un limite vero e questo limite però io l'ho ritrovato esattamente nella nuova programmazione cioè si è affermata una cosa ma di fatto l'impostazione del 21-27 ci pare assolutamente identica Bertoli ecco prego ma io posso dire che da parte del Consiglio di Stato del canton Ticino il tema numero uno ma parlo qui già di anni fa era quello della qualità dei progetti perché non possiamo nascondere il fatto che di fronte a queste possibilità di finanziamento cofinanziamento europeo e svizzero di progetti ci sono sono arrivati poi per le scelte una serie di progetti interessanti dove l'obiettivo era chiaro cosa si voleva era abbastanza chiaro il tema il contesto era chiaro ma anche dei progetti piuttosto fumosi piuttosto diciamo così deboli lo dico molto schiettamente il cui intento primario sembrava quello di raccogliergli il finanziamento ecco e noi abbiamo detto anni fa noi non siamo d'accordo di andare a sostenere dei progetti tanto per sostenerli perché non è serio per nessuno non funziona alla fine crea solo delusione e non produce nulla e credo che nell'ultimo periodo si sia migliorati parecchio comunque nella scelta dei progetti e nelle cose che poi hanno avuto seguiti concreti ed effetti concreti quindi credo che bisogna insistere in questa direzione trovando i finanziamenti giusti e scegliendo i buoni progetti che ci sono però bisogna avere il coraggio di fare delle buone scelte Dario coinvolgo anche te ovviamente come la vedi? guarda il discorso è molto complicato io cerco di dire breve intanto lo studio di Bach è molto interessante ma non ne ha parlato nessuno se non il Corriere del Ticino e questo ci fa onore ma fa anche capire come la situazione sia sempre un po' come dire in ombra nel senso che questo studio così importante per adesso è passato sotto silenzio lo studio di Bach dice una cosa fondamentalmente dice che Canton Ticino e cioè Svizzera Italia Canton Ticino e Lombardia devono collaborare di più sul piano della governance del territorio quello che diceva prima Ugurusa insiste su questo punto cioè sottolinea come governare insieme il territorio significa avere una possibilità di agire in maniera più coerente con questi progetti interreg ora sottolineano sempre i ricercatori di Bach questa governance unitaria è complicata da raggiungere perché perché si sa bene che diciamo le distanze della politica diciamo ticinese con quella dell'Italia delle province italiane di frontiera talvolta è una distanza piuttosto marcata ciò detto c'è un'altra questione la simmetria nei finanziamenti Interreg viene finanziato dalla parte italiana dall'Unione Europea le amministrazioni pubbliche prendono il 100% dei fondi europei sulla base della progettualità presentata e i privati anche fino al 90% dall'altra parte invece viene finanziato dal cantone per il 25% e dalla confederazione per un restante se non ricordo male ancora un 25% o una quota maggiore quindi c'è una simmetria cioè mentre la politica cantonale investe i suoi soldi la politica locale delle province italiane di frontiera non investe i suoi soldi ma si fa dare i soldi all'Unione Europea ecco qui quello che diceva il consigliere stato Manuele Berto il presidente del governo ticinese la difficoltà di individuare progetti che vadano bene per tutti perché talvolta proprio perché si vogliono ottenere questi finanziamenti europei che sono finanziamenti cospicui magari si presentano progetti che non hanno un grande valore quindi diciamo il punto vero ed è questa la domanda che farei al consigliere Bertoli è come si raggiunge una maggiore unitarietà nel governo del territorio cioè come il Ticino e le province italiane di frontiera e la Lombardia possono davvero ragionare per governare insieme questo territorio allora faccio rispondere Bertoli e poi a proposito di progetti bocciati però ho anche una domanda per Augurusa prego Bertoli ma vedi è difficile dare una risposta perché davvero dipende molto dall'impostazione dell'organizzazione dello Stato il nostro Stato è uno Stato federale quindi il cantone pur essendo comunque piccolo perché è un cantone di 350 mila abitanti ha comunque delle competenze importanti per esempio la competenza fiscale di raccogliere le imposte cantonali che sono l'imposta principale che viene pagata dai contribuenti i contribuenti pagano l'imposta cantonale poi una diciamo una quota dell'imposta cantonale che è l'imposta comunale e poi un'imposta federale che è più bassa di quella cantonale e questo poi carica il cantone dell'opportunità di scegliere come spendere i suoi soldi e quindi il meccanismo a cui faceva riferimento campione l'Italia funziona in maniera diversa e credo che da qui bisogna partire cioè non possiamo immaginare che cambia qualche cosa le province italiane rimarranno organizzate come sono le regioni come sono i cantoni come sono bisogna fare degli sforzi di fantasia per cercare di superare queste differenze che sono comunque marcate perché le competenze da noi in generale sono più più forti proprio per questa per questa natura federale dello Stato al contrario di quello che succede con l'Italia ecco a proposito di progetti bocciati dicevo non è che c'è sempre così accordo anche su questo ci sono progetti che sono stati bocciati ma diciamo che vi sareste aspettati una risposta diversa cosa sta succedendo ci arrivo subito a questa cosa volevo però cogliere un attimo due le questioni poste sia dal consigliere Bertoli che da Campione sulla questione dello studio BAC BAC dice anche un'altra cosa però dice anche che descrive ancora questa l'approccio che noi abbiamo a quest'area come un'area sostanzialmente turistica e cioè se l'approccio è questo e sfugge la dimensione economica le potenzialità economiche è del tutto evidente che anche la focalizzazione diciamo della progettualità rischia di andare in una direzione diversa esattamente come BAC ancora una volta dalle interviste perché non è che BAC abbia inventato lo studio ha riportato una serie di interviste gli interlocutori per esempio predilige dice insomma gli interlocutori dovrebbero agire con operazioni di natura bottom up cioè dal basso verso l'alto cioè dai territori verso l'alto mentre troppo spesso si sono perseguite logiche per cui hanno visto le grandi intese l'efficacia di queste cose si è rivelata piuttosto debole ma questo lo dico perché il tema della coerenza tra la progettualità che nasce dal basso cioè dai territori e le nuove politiche regionali che sono le politiche regionali dei cantoni è stato oggetto non solo di discussione nostra che le guardiamo dall'esterno ma so che è oggetto anche di discussione dei cantoni stesse cioè se c'è una coerenza e di conseguenza quella coerenza quando parlo di coerenza dico esigenza dei territori in rapporto alle politiche che vengono messe in campo se non si risolve questa questione si rischia evidentemente di andare in una direzione ancora una volta che limita l'approccio sulla governance lo dico non perché gli altri progetti non siano importanti investire il 35% sull'impresa privata sull'innovazione e quant'altro è una cosa molto importante ma è del tutto evidente che da questo punto di vista vuol dire in qualche modo deprimere il rapporto delle buone prassi tra i paesi la cooperazione è per definizione buone prassi tra i paesi altrimenti non è qui vengo al tema che poneva Anna Campaniello noi abbiamo presentato un progetto questo progetto si chiama Getis Governance dell'economia trasfrontaliera è stato bocciato l'unico progetto era un progetto uso le parole di Bertoli diciamo che dal nostro punto di vista era qualitativamente interessante poi ovviamente chi lo presenta pensa sempre che il proprio progetto sia interessante ma era interessante perché era un progetto di sistema il TAR della Lombardia ha sentenziato l'altro giorno qualcosa che ci ha un po' sorpresi e ci ha sostanzialmente detto che le istanze dicono che un giudice italiano non possa giudicare sulle questioni che riguardano le politiche degli altri politiche degli altri in questo caso intendeva il riferimento secondo cui adesso per non farla troppo complicata il giudizio era legato per esempio alla politica del primo ai nostri che ovviamente dal punto di vista della Costituzione sia quella italiana quella svizzera ma soprattutto quella europea lascia un po' a desiderare ecco stiamo valutando e credo che nei prossimi giorni faremo ricorso al Consiglio di Stato per affermare due principi non per aprire uno scontro ma per affermare due principi il primo è esattamente il tema del fatto che noi non possiamo trattare la cooperazione internazionale come se fosse un trattato internazionale cioè la logica Bertoli mi capirà cosa intendo è che ciascuno appone una sorta di diritto di veto sull'altro un trattato è una cosa una cooperazione ha un organismo che deve decidere e la seconda questione evidentemente è che i soldi della comunità europea come dire non possono essere gestiti con criteri che la comunità europea stessa non riconosce noi pensiamo questa cosa qui è chiaro che è un problema molto rilevante ma più volte abbiamo sottoposto come dire all'autorità di gestione per quanto ci riguarda il problema di individuare un criterio che in qualche modo consentisse una partecipazione effettiva non possiamo secondo me continuare a farci seguire da questo sospetto secondo cui ogni volta che i lavoratori le imprese gli operatori le istituzioni italiane chiedono presentano un progetto lo fanno solo per ricevere fondi questo è anche un po' devo dire di questo seguiremo ovviamente gli sviluppi adesso mi devo fermare per la pubblicità poi torneremo anche con una parentesi più leggera tra poco ben tornati a Borda siamo nella fase finale la leggeriamo per qualche minuto c'è uno studio realizzato dall'Ax Assicurazioni che se la prendo un po' con gli automobilisti ticinesi allora andiamo a vedere tutti i dettagli nel servizio di Vittoria Dolci in confronto a come ho visto guidare in Svizzera in Svizzera interna secondo me non è così vero ma insomma io sicuramente ho mai presunto un radar in Svizzera interna lì sono cattivi quindi insomma secondo me è un po' esagerata è un po' un'andiceria adesso che sono diventato ticinese bisogna avere un po' la testa sulle spalle e basta qui non c'entra essere ticinesi, svizzeri, italiani o tedeschi bisogna avere un po' la testa sulle spalle e basta i ticinesi guidano peggio rispetto al resto degli automobilisti svizzeri lo riperisce una recente indagine che ha analizzato oltre 70.000 incidenti stradali avvenuti nel corso degli ultimi 5 anni in Svizzera maglia nera dunque per il cantone che confina con l'Italia che ha registrato il 20% di sinistri in più rispetto alla media del paese anche perché sono di molteplici nazionalità per cui non capisco qual è sia il nesso di dire solo i ticinesi però vabbè può essere c'è un sacco di maleducazione ma io la trovo sia qui che al nord Italia che quando vai in Svizzera interna è chiaro che è vero io no comment, non ne voglio sapere noi siamo italiani quindi guidiamo bene dipende dai dipende no dai diciamo che un po' tutti guidano male dipende chi si becca i migliori conducenti provengono dalla Svizzera centrale mentre sul fondo della classifica appena sopra il Ticino ci sono Basilea, Città e Ginevra ma sono abbastanza prudente sulla guida sto molto attenta però io penso di guidare bene bisogna rispettare anche gli altri mi dispiace che ci sia questa notizia sì e no siamo tutti uguali penso c'è anche qui la disciplina e l'esperienza specialmente tanti problemi li vedo nei giovani perché gli altri le esperienze hanno fatto quindi sono tranquilli c'è qualcuno che fa pezzo dei ticinesi secondo lei? italiani se li vedi guidare educazione zero lasciar passare pedoni non sanno cosa esista e dopo mi dica lei cosa è meglio chiudiamo subito la parentesi automobilistica perché si aprirebbe un mondo ci dedicheremo un'altra puntata siamo purtroppo in chiusura a tutti un minuto per chiudere introducendo proprio al volo anche il tema dell'accordo quadro e cosa dobbiamo aspettarci quali sono le priorità cominciamo da Ugurusa io credo che quello che è accaduto poi il consigliere Bertoli può dirlo evidentemente molto meglio debba essere chiamato col suo nome cioè dopo sette anni di discussione l'accordo quadro con l'Unione Europea non si è fatto e quindi io lo chiamerei fallimento da questo punto di vista poi ovviamente in un fallimento ci sono molti aspetti e ciascuno come dire può trovare le ragioni per cui quel fallimento è addirittura un vantaggio nel senso che basta guardare quali sono le posizioni sia nel mondo sindacale ma soprattutto nel mondo politico anche in quello economico molto articolato ci sono anche strane convergenze diciamo che sono insospettabili per cui evidentemente il dato di fatto è che gli obiettivi erano chiari dell'inizio della trattativa bisognava da un lato creare le condizioni perché la Svizzera aggiornasse il suo pacchetto di accordi bilaterali credo che siano oltre 100 di cui più importanti sono 10-12 e che di fatto consentisse di dire che chi entra nel mercato unico europeo abbia più o meno le stesse condizioni abbia le stesse condizioni dall'altro mi pare che vi fosse anche un'esigenza da parte della stessa della Svizzera di creare una condizione per cui il sistema degli accordi bilaterali che è molto interessante dal punto di vista anche della densità del numero degli accordi penso non solo fosse aggiornato io credo che noi siamo a 50 anni dal libero scambio a 20 anni dagli accordi bilaterali 1 e 2 insomma quindi necessariamente aveva un aggiornamento è un impianto molto interessante ma io penso anche molto fragile per esempio per il fatto che con questa modalità partecipativa interessante del fatto che si può andare a referendum rischia di essere fortemente debole si pensi semplicemente a quello che sarebbe accaduto se il 29 settembre scorso avesse vinto la libera circolazione posso aberto libero perché se no prego Io credo che è necessario trovare una nuova strada per rimettere in discussione questi rapporti che devono essere dei rapporti da consolidare perché alla fine le cose funzionano se si lavora assieme lo dico anche per il mio paese che è un paese che vive di esportazione vive di economia anche grazie agli scambi con gli altri ed evidentemente chiudere questi canali diventa molto complicato però il nostro sistema prevede la possibilità di passare da un voto popolare e quindi bisogna avere il consenso senza il consenso non si va avanti e questo è stato un po' il ragionamento per lo meno quello che formalmente è stato espresso dal governo nazionale svizzero che ha detto sostanzialmente se noi andiamo avanti con questo progetto ci schiantiamo perché il consenso non c'è non è sufficiente non è facile trovare un buon accordo politico che guarda a miglio termine perché purtroppo la politica in generale anche la politica interna tende piuttosto a guardare la punta delle scarpe e non più in là e questo naturalmente fa un po' a pugni con la ricerca di consenso su cose che guardano molto lontano Dario, lascia a te una battuta finale Cedo il mio minuto al consigliere Bertoli chiedendogli se non pensa che la pandemia abbia in qualche modo fatto capire ai ticinesi e ai comaschi quanto è piccolo il territorio e quanto sia importante che questo territorio sia aperto io voglio chiederglielo perché so che lui è una persona molto sensibile su questo e quindi gli lascio il mio minuto per una riflessione su questo tema Sicuramente la pandemia ci ha aperto degli orizzonti ci ha mostrato delle cose che a ben vedere conosciamo già l'importanza di alcune istituzioni centrali che date per ordinari e per scontate poi diventano talmente importanti quando vengono a mancare che ci manca il terreno sotto i piedi Io però sono anche un po' non so se negativo scettico o realista vedete voi sul fatto che poi una volta viste queste cose capite queste cose finita la pandemia poi si fa finta che tutto ritorni come prima mi pare che sia un po' anche lo stesso atteggiamento che abbiamo un po' con il clima domani, domani faremo domani faremo certamente dopo domani faremo ma intanto si continua con lo stesso sistema E allora torneremo a rifletterci perché purtroppo siamo arrivati alla fine gli argomenti erano ancora tanti ci torneremo mi scuso anche per i messaggi che non siamo riusciti a leggere ringrazio chi ci ha seguito da casa ringrazio Dario Campione ringrazio Emanuele Bertoli e ringrazio Giuseppe Ogurusa Border tornerà mercoledì prossimo Buona serata In collaborazione con Will CGL CNA ACLI CWA